I referenti territoriali di CGL, CISL, Will, FIALS, il Comitato Curo, chiedono un incontro urgente per discutere delle problematiche della sanità locale allarmanti, definiscono in particolare le condizioni in cui versano i reparti di neurologia e fisiopatologia respiratoria del Luigi Curto. Scrivono al rappresentante territoriale della conferenza dei sindaci dell'ASL Salerno, al presidente della conferenza del distretto 72, al presidente della comunità montana Vallodidiano e alle segreterie provinciali dei sindacati. Neurologia, scrivono in una nota, a causa dell'imminente pensionamento del direttore è rimasta con un solo dirigente medico e nonostante la procedura concorsuale in atto ancora non ne vede assegnati un numero sufficiente. Fisiopatologia sconta una cronica mancanza di personale, infatti da tempo vi opera un solo dirigente medico responsabile costretto a sospendere le attività nei periodi di congedo. D'altra parte, sottolineano, in tutte le unità operative l'attività si svolge con grave carenza di medici e in precarie condizioni organizzative. Per l'emergenza Covid sono state rinviate sia le prestazioni ambulatoriali che quelle chirurgiche non urgenti che è prioritario recuperare. L'ultimo esempio di tale disfunzione è avvenuto a ortopedia e traumatologia e si è risolto ricorrendo ad un trasferimento fuori regione per l'impossibilità di operare un paziente affetto da trauma del femore nei tempi richiesti da tale intervento. Nonostante concludono, ormai si parli da tempo, di attivare la medicina territoriale, in questo distretto si è realizzato molto poco nell'assistenza alle fasce deboli. A tal proposito vogliamo segnalare la mancata riqualificazione e riorganizzazione delle strutture territoriali presenti, tra cui quella di Sant'Arsenio, indispensabile alla realizzazione delle attività programmate e deliberate dall'ASL Salerno. Auspicano quindi un incontro per chi ha la direzione strategica dell'ASL e ai referenti regionali competenti arrivino le problematiche e le proposte per una rapida soluzione delle carenze sanitarie del Vallodidiano.